Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figliolpodico65AguilaScoop e grazie per essere in mia compagnia. Oggi torniamo a parlare di gossip. Oggi andiamo a parlare di Raffaella Fico. Raffaella Fico, sexy symbol, amici miei, fino a 5-6 anni fa. Ma che cosa è successo? Raffaella Fico, che brutta fine, dopo Cristiano Ronaldo, solo sesso, tradimenti e balle. Entriamo nei meandri, come piace dire, del video e cerchiamo di capire che cosa è successo a una delle donne più desiderate di Italia. Raffaella Fico, guardate amici miei, vi faccio i passaggi per gradi per rendervi conto del sesso, dei tradimenti e delle balle. Quindi sono tre cose importanti che vi prego di sentire insieme a me. Sentiamo il video insieme, partiamolo insieme, per dirvi conto quante cazzate ha fatto questa ragazza pur di arrivare, possiamo dire, alle vette del mondo dello spettacolo e per poi cadere fragorosamente. Raffaella Fico nasce a Cercola il 29 gennaio 1988, provincia di Napoli, oggi ha 36 anni, figlia di Alfonso e Antonietta, due proprietari di una piccola bottega di ortaggi. Pensate che non arrivavano quasi mai a fine mese. Diplomata al liceo socio-pedagogico, ha un fratello più di nome Francesco. Carriera inizia nel 2007, a 19 anni, quando vinse la ventesima edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix, che la introdusse in modo perentorio nel mondo dello spettacolo. Infatti, a gennaio del 2008, partecipa all'ottava edizione del Grande Fratello. Tenete in mente questa edizione del Grande Fratello, che fece molto parlare di Raffaella Fico. Sempre nel 2008, viene scelta come parte, quindi, del cast Sguardi Diversi e come inviata sexy del programma molto trash che andava in onda su Italia 1, Lucignolo. Nel 2009, affianca Enrico Papi, quindi in veste di valletta, in Il Colore dei Soldi e nel 2010, nei mitici anni Ottanta. Vedete, dal 2007 in poi, lavora sempre e lavora tanto. Non sicuramente per le sue capacità professionali, ma per la sua, ripeto, perentoria bellezza. Sempre nel 2010, insieme alla diavoletta, quindi che anche lei veniva dal GF, eccetera, Melita Toniola, o compagna di calendario, e andiamo a vedere quale, diventa valletta del popolare show di cabaret Colorado Café, che andava in onda su Italia 1. Nel 2011 sbarca in Honduras, sull'isola dei famosi, e nel film di Massimo Boldi, Matrimonio a Parigi, accanto ad una giovanissima Giovanna del Bufalo, flop che fu, o vuol dire, un film che fece un flop pazzesco di incassi, non lo vede praticamente nessuno. Nel 2014 tenta addirittura di sfondare nel mondo della musica, e grazie al suo ex fidanzato Gianluca Tozzi, figlio di Umberto Tozzi, pubblicò il suo primo e unico album intitolato Rush, altro grandissimo flop. Dopo altri passaggi televisivi, senza lassare traccia, quindi si perde per qualche anno, e questi passaggi televisivi sono stati tale quale show e Grand Hotel Chiambretti, il programma di Piero Chiambretti, dopo 13 anni, ritorna nella casa del Grande Fratello, nel 2021, immaginate, quindi partecipa al Grande Fratello VIP. Che cosa però non dobbiamo dimenticare? La prima edizione del Grande Fratello, guardate le balle e che cosa gli è successo? Virginità all'asta e le denunce dell'emiro del Bahrain, uno dei più ricchi uomini al mondo. Al termine della prima partecipazione al Grande Fratello, torniamo un po' indietro, dichiara di mettere all'asta la sua virginità per un milione di euro. Aveva solo 19 anni e il consiglio gli fu dato dal suo agente di allora, Lele Mora. Rilascia un'intervista esclusiva con la ridicola e meschina compiacenza dell'allora direttore Alfonso Zionini a settimanale Chi, in cui afferma la Figo «Metto all'asta la mia virginità per un milione di euro. Voglio proprio vedere se c'è qualcuno che tira fuori questa somma per avermi. Non so cosa significa fare sesso, non so cosa significa fare sesso, diceva allora. E se qualcuno pagherà un milione di euro per me, sarò di certo imbarazzata. Ma con questi soldi potrò realizzare i miei sogni, ovvero comprare una casa a Roma e pagarmi un corso di recitazione». Quindi comprava un milione di euro, il principe del Bahrain comprò una vergine. Ma le cose non andarono così perché successe l'ira di Dio. Le dichiarazioni della Figo fecero il giro di tutti i giornali. Divenne la personaggio più gossipato del momento. Peccato però che dopo qualche mese pagò quella somma, quindi pagò quella somma di un milione di euro, uno degli uomini più ricchi al mondo, il principe del Bahrain, quindi l'emiro più ricco del mondo, il quale cosa fece? Prima di fare bonifici e così via, fece visitare Raffaele Figo dai suoi medici qualificati specialisti ginecologi e che dichiararono che la ragazza non era vergine ormai da diversi anni. Quindi anche se lei aveva 19 anni, va detto quella cazzata, i medici dissero che non era vergine da un po' di anni. Quindi denunciando il principe per questa bugia, per questa truffa, sia Lele Mola che Raffaele Figo. Il processo non si ridunse insomma tutto in una somma che pagò addirittura perché ci fu l'intervento di Silvio Berlusconi, il quale mise tutto a tacere. A distanza di 11 anni da quel fatto, la Figo svela al mondo che la storia della verginità era stata una balla colossale pubblicitaria, costruita ad hoc da Lele Mola e dice, a sua discorpo anche perché ricordiamo c'è stata la denuncia, il principe del Bahrain, è l'intercessione, chissà come, come e quando, quindi di Silvio Berlusconi. Dice Raffaele Figo, a proposito di quella bruttissima figura, di quella balla clamorosa, avevo solo 19 anni, non conoscevo l'ambiente dello spettacolo, i miei agenti mi consigliano di raccontare questa balla per far parlare di me. vita privata e qui, amici miei, ce ne sono di tutti i gusti e di tutti i colori. Tra il 2009 e il 2010 balza agli oloni della cronaca per una storia di sesso, storia di sesso con il calciatore più famoso al mondo, Cristiano Ronaldo, il quale lasciò il ritiro del Real Madrid, era appena arrivato al Real Madrid, per venire a Capri ad avere due notti di sesso forte con Raffaele Figo. Per lui era solo un'avventura, lei addirittura parlò di flirt, come se dovesse mettere la medaglina. Da giugno 2011 ad aprile 2012 la Figo è fidanzata con il calciatore Mario Balotelli dell'Inter di colore. Il 2 luglio 2012 Raffaele Figo dichiara al mondo di essere incinta del calciatore Balotelli da qualche mese. La figlia, chiamata Pia, nasce il 5 dicembre 2012, oggi ha 12 anni. Dopo vari ricorsi in tribunale, vari processi, successe quello che successe per il riconoscimento e il test del DNA, Balotelli, sconfitto dai tribunali, riconosce la figlia Pia solo il 5 febbraio 2014. Ma lei non è ferma, lei va avanti perché lei, la virginità eccetera, ma lei continua. Sempre nel 2014, durante la registrazione dell'album Rush, ha una storia con il figlio di Umberto Tozzi, Gianluca Tozzi. Tra il 2016 e il 2018 si lega al procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio dell'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, conosciuto per la recessione della Juventus, un casino che è successo appunto per quanto riguarda il mondo del calcio. Parliamo tra il 2005 e il 2006, però lei è stata tra il 2016 e il 2018. Poi seguono le storie molto fugaci, molto brevi, con Francesco Caserta nel 2020 e Giulio Fratini, ricordate questo nome, non vi è nuovo, nei primi mesi del 2021, oggi compagno di Elisabetta Gregoraci. Oggi si dice singolo, ma ha avuto l'ultima storia molto molto brutta con l'imprenditore Piero Neri. Guardate che cosa dice a proposito dell'imprenditore Piero Neri. Lasciamo stare, brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione mitrativa durante il lavoro. Aggiungiamo un'altra chicca e andiamo a chiudere il video. Calendario sexy 2014, c'è il Pirelli, ci sono gli altri, eccetera, i Max, eccetera. Lei sceglie il calendario dove ci si spoglia di più, quello che va proprio ad hoc per gli uomini, dove secondo me non c'è la fotografia artistica, qui c'è proprio il nudo. Infatti, calendario sexy 2014, Raffaella Fico posa completamente nuda nel calendario per soli uomini 4 Men Magazine nel 2014. Ricordiamo che in quegli anni ebbe anche alcune proposte molto hot, molto piccanti. Prima da Tinto Brass e le disse no, anche se i canoni fisici non erano quelli tipici di Tinto Brass e anche da parte di Rocco Siffredi per qualche suo film a luci rosse. Anche in quel caso Raffaella Fico disse no, mi fermo per adesso al calendario e poi dopo chissà. Dopo si è persa dai radar, non si è più vista. Amici miei, questo era il video di oggi, quindi Raffaella Fico che brutta fine, dopo Cristiano Ronaldo, solo sesso, tradimenti e balla. Se vi è piaciuto il video, un bel segui per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube Filopodico65, ho messo anche qui Aquila Scoop, vi raccomando i like, i commenti, la campanellina per avere la notifica sempre pronta. Amici miei, come dico sempre, più siamo, meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene e lo dico davvero. Alla prossima!